Dimenticate il Campoconi di oggi, dimenticate gli spogliatoi fatiscenti e poco puliti, la tendostruttura abbandonata, la pista atletica piena di buchi e dislivelli. Tra un anno la struttura di via tagliamento avrà un volto del tutto nuovo, grazie ai 750 mila euro di finanziamento per le università di 2019. Il Campoconi infatti ospiterà gli allenamenti di tiro con l'arco. Si procederà così ad una serie di importanti interventi di riqualificazione. Prima di tutto saranno abbattuti gli spogliatoi e la tendostruttura esistente. Il blocco dei locali che ospiteranno gli attreti sarà completamente ricostruito e sarà dotato anche di un pronto soccorso, un deposito di attrezzi oltre che un locale dedicato al personale. Il tutto nel rispetto alle normative vigenti sia per quanto riguarda l'impiantistica sportiva che per la normativa CONI. Al posto del campo coperto invece, da anni chiuso e trasformato in un deposito polveroso, nascerà uno spazio playground polivalente. Ma non solo, si procederà anche alla revisione dell'impianto elettrico e della recinzione e ci sarà anche un intervento straordinario che riguarderà il manto erboso. La pista atletica invece sarà al centro di un restyling ma in una seconda fase con le economie di gara come spiega l'assessore ai lavori pubblici Costantino Preziosi. La pista di atletica dovremmo rifarla con le economie di gara, quindi diciamo che per quanto riguarda il campo CONI che è una struttura comunale, con questi soldi delle università andiamo bene anche come amministrazione comunale. Dopo la progettazione esecutiva ci vorranno due mesi per l'approvazione e si passerà all'affidamento dei lavori e alla esecuzione delle opere senza dimenticare il collaudo per un totale di 13 mesi. Abbiamo come deadline febbraio l'anno prossimo, quindi adesso un anno dobbiamo terminare gli interventi.